Avevo una sorella più anziana, per dieci anni ha avuto la domanda, ma in quegli anni lì assumevano le persone più giovani, tant'è vero che ho trovato nel reparto dove sono andata una certa Fantuzzi Maria che aveva 13 anni, io ne avevo 20 quando sono entrata, mia sorella le dicevano che era troppo anziana, perché poi è vero che assumevano persone anche dell'età di mia sorella, però magari erano vedove, insomma per mia sorella non c'è stato verso, non è riuscita e una delle ultime volte che era andata all'ufficio personale, l'avevano chiamata, lei ha detto beh se non c'è posto per me, io ho una sorella più giovane e così sono entrata, mi hanno chiamato in infermeria, c'era il dottor Mallarini e lì c'era un caporeparto, sa che facevano le prove della vista della forza, questi esami, mi ricordo c'era questo caporeparto, io come ho stretto il coso della forza ha fatto la lancetta, lui subito ha detto questo la prendo io. Sì, mi ha portato su nel reparto e lì ci sono stata per quasi 20 anni con lui, sono entrata lì al reparto F1 dove facevano l'emulsione, proprio il mio primo lavoro lì è stato, titolavo le damigiane d'ammoniaca che andavano in lavorazione, ci sono stata per sette anni, sino al 68, fin quando era arrivata poi facevano la camera del lavoro, una volta era venuta e facevano, misuravano l'aria e c'era lui, questo signore qua, caposala, gli hanno detto quanti anni è che questa ragazza è qua? E la caposala gli ha detto sette anni che fa questo lavoro qua e sa cosa le ha risposto questo, le ha detto questo, se questa ragazza non ha sofferto in questi sette anni in vita sua non soffrirà mai più niente. Il giorno dopo mi hanno tolto di lì e sono passata ai solidi, poi dai solidi sono andata sempre nelle pesature così, poi sono andata nei laboratori, sono andata nei laboratori centralizzati, lì avevo fatto, io non avevo esperienza di laboratorio, c'era un laboratorio di reparto ma non era con macchine così, come posso dire, complicate, più complicate e di lì poi mi hanno spostato in diversi laboratori. A me non spiaceva cambiare tipo di lavoro, anzi tutti quando li mandavano da un'altra parte quasi si offendevano, come dire, io dico beh se impara quello lì perché non devo operare anch'io e ci sono stata sempre bene fino agli ultimi niente, poi ho cambiato anche diversi laboratori perché sono stata anche nel, adesso non ricordo esattamente le date, ma quando Polla, il signor Polla era andato a Milano, io ero in un laboratorio al G dove facevano, controllavamo le bande, inizio banda, centro banda, i difetti, i difetti di, perché allora si controllavano nelle pellicole già, c'era, lavoravamo per la Kodak, non dovevano essere timbrate Kodak e avevamo un registro dove segnavamo. Lì ci sono stata bene per diversi anni che ero ancora carica del reparto perché avevano messo i turni e io non volevo farli, cioè non che non volevo, dicevo avevo i miei anziani a casa, non volevo e allora il mio capo mi ha tenuto in carica al reparto, però ero andata anche in questo laboratorio qua dove poi è finito, anche quello l'hanno chiuso. Ho imparato tanti lavori fino agli ultimi poi dell'estese perché quando sono poi arrivati gli americani hanno fatto, al reparto dell'estese hanno fatto un laboratorio che costava un sacco di soldi veramente e sa che cosa? A noi facevamo fatica perché avevano fatto dei lavandini piccolini, noi con le burette e lì facevamo pH, PAG per l'emulsione, per l'emulsione e venivano dai reparti con un bicchierino e lì bisognava fare lì esempio, noi non potevamo andare a mangiare, non avevamo l'orario del mangiare, potevamo andare quando avevamo i 5 minuti, però io più volte mangiavo pranzo alle 3 gli ultimi anni perché non avevamo tempo ed eravamo uno per turno. Nonostante però tutti questi io ci sono stata bene, lo sa perché mi piaceva andare perché avevano molti facevano stegite, facevamo lo sport, a me piaceva andare a sciare, ho conosciuto un sacco di gente, però ho sempre lavorato volentieri, andavo d'accordo con i ragazzi, tant'è vero che a fine rapporto di lavoro mi avevano poi premiato con la stella al merito, che io subito non sapevo neanche cos'era, non sapevo cos'era, poi niente perché ho fatto anche 20 anni la notte e io non ero, quando me l'avevano proposto e io ho detto ci provo, se ci rimetto di salute smetto, altrimenti continuo, poi ero orgogliosa, non volevo, non volevo non farcela, 20 anni, 20 anni la notte ho fatto e lì ho fatto tanta fatica perché a volte guardi andavo su col pullman, abitavo già a Savona e a volte col pullman mi portavano sino in piazza, in piazza perché arrivavo sino a Corso Ricci mi addormentavo, sveglia da Ferragni a Corso Ricci poi mi addormentavo e l'autista mi portava in piazza, dicevo io e poteva anche chiamarmi, però le ho detto per me è stata una grande azienda, veramente. Di odori, puzzavamo come non so cosa sul pullman, puzzavamo di chimica, i vestiti che io portavo a lavorare, non li mettevo nell'armadio perché veramente quello era, poi se le parlo i primi anni anche dal 62, 68, le pipette con la bocca e non avevamo niente, cioè non avevamo proprio anche le attrezzature, anche a volte mancavano i guanti, mancavano, ci sono stati dei periodi che non, con gli americani diciamo che le cose sono cambiate perché avevano speso, avevano un laboratorio che io persino ho detto, persino troppo elegante, bianco e noi usavamo il nitrato d'argento, nitrato d'argento come prendeva un po' di luce, c'erano delle macchie che non le dico, poi io avevo anche un capo che era molto preciso, mi veniva col dito a guardare, guai se trovava una, dovevamo fare attenzione ecco. Poi gli ultimi anni veramente lì, allora perché c'è stato un periodo che era andato via, quello che aveva studiato l'impianto era andato via di lì e avevano chiamato un caporeparto, diciamo degli anni precedenti e lui dice che ha detto, però mi scelgo io il personale, lui aveva messo un perito, perito chimico e un operario, io ero operaria allora, prendeva così, perché? Dice il perito ha le nozioni o cosa, ma quando si trattava di velocità e di avere fretta di fare un'analisi a mano, solo chi era stato tanti anni nei reparti era in grado di farlo, era capace, più svelto a farlo e a volte con i ragazzi, i ragazzi gli ultimi anni a volte mi chiamavano zia perché loro erano tutti giovani, zia perché a volte io li sgridavo come fossero i miei figli, ecco perché dico adesso, i giovani da adesso se li sognano le cose che abbiamo passato nei reparti, perché erano anche molto severi, si faceva attenzione a quello che, invece le ultime volte mi dicevano, magari lasciavano l'acqua aperta, io dicevo, eh ragazzino vai a chiudere l'acqua, la paghi te? mi diceva, no non la pago io, ma di questo passo, gli ho detto, guarda che andiamo via tutti sai, tutto questo tipo di cose, però poi ci stavo bene, mi volevano bene, una notte, le dico anche un'altra cosa, una notte a mezzanotte, quando facevo, arriva Genta, era il capo principale, nella sala controllo c'erano tutti i computer e tutti questi periti erano 4 o 5, uno addirittura aveva le gambe sul tavolo, io quante volte dicevo, ragazze se fate così qualche volta vedrete cosa vi succede, quella sera è arrivato il dottor Genta, mica le ha detto niente, poi è entrato lì, io stavo lavorando, buonasera, insomma salutato, poi se n'è andato, il giorno dopo il nostro capo, sa cosa le ha prese, le ha girato, perché sa cosa le ha detto la direzione, ci ha detto, vedo che avete molto tempo da perdere, le ha tolto due persone. Io sono andata in pensione con le mission, lì per me lasciavano già andare, però io poi ho avuto dei capi anche in gamba, in gamba e anche delle persone lì che sapevano veramente il lavoro, non poteva raccontarle delle frottole, anche non so in caso se uno avesse voluto bluffare, anzi una volta ho avuto un premio anche aspetti, in un'analisi mi ero sbagliata, mi ero sbagliata perché avevo dato 500 decilitri di acqua quando ne dovevo dare 5, come mi sono accorta, sono corsa subito nell'ufficio, sono corsa nell'ufficio e ho detto mi sono sbagliata, ebbene sa mi hanno dato il premio perché ha detto nessuno l'avrebbe mai e quell'emulsione lì sarebbe andata male, invece l'hanno recuperata perché hanno aggiunto solo dell'acqua, dice nessuno avrebbe mai osato di dire io ho sbagliato, invece mi sono accorta, mi sono accorta che avevo fatto male il conto e mi avevano dato un premio per quello. No, no, nell'ordine c'era l'ordine, specialmente nei laboratori, avevamo i capi che venivano col dito e così, assolutamente, assolutamente l'ordine c'era, è stato ultimamente che lasciavano un po' andare, ha capito? L'acqua, le luci, andavano via senza spegnere le luci, ma è impossibile, questo è impossibile, su! E quando facevamo la notte, a volte mi dicevano, tu sei scema, chiama il titolare, sveglialo durante la notte, dico sì sveglialo, lo svegli sai quanto, una notte, poi di qua, il giorno dopo non ti trovi più a lavorare qua, ci vuole anche una certa serietà, non si può scherzare col lavoro, molte volte guardi anche negli incidenti, così sul lavoro, molte volte sono anche proprio gli operai, chi per la fretta, chi cosa non mette o le maschere o guanti, cose, questo, questo anch'io eh, io ho anche i guanti, non potevo sopportare i guanti, io sono piena d'artrosi nelle mani, perché non potevo sopportare i guanti, perciò lavoravo senza guanti, però stavo attenta, mi distillavo, qualsiasi cosa che toccassi, che sapevo, è in un laboratorio ecco, c'erano tutte le cose, anzi mi sono successe anche, una volta era scoppiata una damigiana di fenolo, mi ricordo questo del 68 prima, mi avevano denudata completamente, c'era la capossale, mi avevano tolto tutti i vestiti, presto presto, non era successo niente, perché andava fenolo eh, andava la pelle eh, i rischi a volte ci sono eh, e spesso, e spesso, io mi auguro che però insomma poi negli ultimi anni staranno anche un po' più attenti eh, perché poi grandi infortuni non ce ne erano stati ultimamente eh, le persone stavano anche un po' più attette eh, Sì, beh, io le dirò un'altra cosa, che sono stata anche fortunata lì, perché sono entrata che avevo vent'anni e sono uscita, io aspettavo, perché poi i miei erano mancati, io ero rimasta sola, appunto come l'ho detto, non mi ero sposata, dicevo sempre, io ho sposato la Ferragna, perché ero sempre là e sono rimasta sola e avevo bisogno di soldi, io non volevo andare, io ho dei fratelli, ma non volevo andare a chiedere i soldi ai miei fratelli, dovevo la finestra giusta, perché avevo 57 anni, perché erano cambiate le finestre e l'anno dopo non sono più andati a quell'età lì, capito, doveva avere i 35 anni e lì sono stata anche fortunata, sono uscita perché oggi come oggi non vanno più a 57 anni. Sono rimasta delusa, sì, le dico proprio delusa, guarda io andavo a sciare, non le faccio nomi, però avevo conosciuto dei dirigenti, mescolati con tanti della Ferragna, che alcuni conoscevo davvero del tuo, altri meno, mi ricordo una volta c'era un signore che vedevo che con questi ragazzi, perché poi c'erano anche quelli che facevano i venditori, che andavano in giro e questo qui, questo qui è un signore con gli occhietti furbi, so spiegare, che guardava questi ragazzi, li interrogava a volte cosa, e io le dico a un amico, le dico, ma chi è quel signore lì? Mi dice, Rita, chi è? È il direttore della nostra fabbrica, sono rimasta. Allora capivo il perché lui li stuzzicava, tant'è vero che anche a me una volta mi ha detto, stia attenta signora, mi ha detto, questi sono lupi vestiti da agnelli, scherzosamente, scherzava, però aveva un bel rapporto, capito, sia con chi era in fabbrica e con chi lavorava fuori, avevano anche, non so spiegarle, io ho trovato una famiglia, ho trovato come una famiglia, sì, non ho avuto, non so, delle delusioni proprio, non ho mai avuto grandi stipendi, non li ho avuti, no, però sempre mi sono accontentata e le dirò anche una cosa, che anche da solo, poco alla volta, mi sono comprata due camerette piccoline, ma me le sono comprate di mia e questo, anche questo mi ha dato soddisfazione, ha capito? Ai tempi, perché oggi anche il ragazzo non farebbe più i sacrifici che ho fatto io, però sa, non li farebbero più, perché allora giovani, anche a tutti, anche a livelli facevano più sacrifici, oggi molto meno, forse non è più, non è il periodo, no.